buongiorno mi sembra come stessi facendo i vlogmas di natale ma no non li faccio e vabbè io ora oggi è domenica e vado scusate vado nel meccatino quello là dove abito io in pratica vado a vedere se c'è sempre qualcosa di trucco che mi può piacere perché lì vendono trucco a 3 euro delle palettone grandi però non mi interessa che stanno così poco è quella cosa che devo comprare trucchi solo trucchi campo solo stanno e di trucchi ora mi vado a vestire mi vado a preparare che sono le 10 quasi ci vediamo fra un po ciao ok sono andato a prendere la roba che dovevo prendere il pulmon e poi vi faccio vedere quello che ho preso ok eccomi qua scusate per il primo piano ma penso che sarà salendo mia figlia sono sicura allora ho preso e farò prestissimo ovviamente della mac farsa ha i cristalli quelli come si chiamano il primer questo qua che è identico a quello che c'è però quello che c'è è buono in pratica in confronto a questo qua diciamo che se non lo rompo sicuro perché è storto l'ho rotto vabbè non me ne frega perché comunque devo solo mettere le gucce non me ne frega se si rompe o meno a me mi interessa se si rompe l'altro proprio sicuro questo qua l'ho pagato 3 euro e il primer normale vedete questo comunque vicino si ha scritto le ruote antirughe eccetera eccetera scusate non so se metti il cavalletto un po' più ah ecco poi non lo so se regolamente c'ho adesso lo schermo è sporco un attimo solo perché poi ecco si ha poi ho comprato che li venevano insieme ovviamente la matita per le ciglia sopra ciglia scusate ora penso che si vedrà ecco questa qua marrone e poi il mascara questo qua lo devo provare che ha volumizzante non so che cazzo è della Maybelline New York falsa ovviamente questo in pratica dice che allunga le ciglia e le fa più forte vediamo e poi ho preso questa un'altra palette non lo so che cazzo di palette è sta scritto Zoeva è carina mi posso lamentare bellina pure farsi bellina vediamo se riesco a scorciarvi i colori sono bellissime e niente queste sono le mie spese che ho fatto stamattina ora per ora metterò questo vlog su youtube poi se ne farò un altro oggi pomeriggio vedrò di fare un altro se no ci vediamo direttamente domani per il vlog per un video per il vlog e niente io poi ve l'ho detto ragazzi scusatemi veramente con il cuore dovrei fare appunto devo fare il il make up con la paletta la live con la paletta quella della Sephora ve l'avete chiesto un sacco di volte ma purtroppo in casa non so sola ora so sola ma comunque sta salendo già mia figlia io in bagno non posso stare allora devo fare tipo una posizione qua a casa mia e non ci deve stare nessuno perché comunque parlano se non sentite niente non capite niente e così ve la posso fare non vi dico di fare il video perché il video ci metto un sacco di tempo a farlo e raga scusate la mia mamma e lei è brutta la piccolina vabbè io vi saluto qua perché ora farà casino a morire il gatto che passa davanti farà casino a morire e ovviamente ecco farà casino a morire e mi rompe tutto vabbè io vi saluto qua se casomai ci vediamo oggi come l'edito domani ciao